Entra anche tu nel mondo del postemobile store, associati alla tua sim postemobile direttamente dal tuo smartphone, attraverso un'applicazione ricca, interattiva, puoi fare bonifici, puoi pagare bollettini, ricaricare il credito della sim o della postpay con pochi clip, puoi infine richiedere la tracciatura delle spedizioni postali e fruire di nuovi servizi di intrattenimento. Non lo sapevo neanche io, sapete che vi dico, passo anch'io a postemobile. Grazie.